Si avvicinano le festività natalizie, il Comune si sta organizzando per abbellire la città con le tradizionali luminarie. Negli ultimi giorni su questo tema è sorta una polemica per le dichiarazioni del Direttore Generale di ConfCommercio. Assessore, quali sono le sue considerazioni in merito? Direi una polemica abbastanza strumentale, non ci siamo a ragionare in questi termini. ConfCommercio non ha presentato nessun progetto, nessun atto pubblico che possa testimoniare la presenza di un qualche cosa, di un contenitore che possa agevolare privati, sponsor che vorrebbero dare un contributo per il Natale. Non c'è nulla, la settimana scorsa ci è stato consegnato una bozza di come è stato fatto a Milano, cosa neanche applicabile per il Comune di Napoli perché abbiamo regolamenti completamente diversi. Siamo a una polemica sterile. Altro è invece il principio di una sinergia che dovrebbe esserci tra il Comune di Napoli e le associazioni di confesercenti che dovrebbero rappresentare al meglio quella che è una categoria commerciale che durante il periodo di Natalizio ha bisogno di un supporto. Quindi polemica inutile, polemica sterile, non ci siamo. Noi stiamo lavorando, siamo in ritardo perché le nostre condizioni economiche come ente in predissesto ci danno dei limiti a quello che era anche una spesa che abbiamo previsto negli anni passati. Però ci stiamo lavorando, stiamo cercando di mettere in campo le nostre migliori risorse, stiamo cercando di individuare un bando che possa accogliere quelle sponsorizzazioni che sono disposte anche in questa fase finale ad investire su Napoli. Abbiamo dei territori che già si stanno organizzando e io incontrerò altri due centri commerciali naturali della città in questa settimana. Quindi in città si è accolto l'appello che più volte ha fatto il sindaco. Facciamo il Natale insieme, mettiamoci tutti quanti insomma un qualche cosa che possa far sorridere sicuramente i tanti turisti che verranno a vedere la città. Noi ci stiamo lavorando, stiamo cercando di individuare quali sono le misure per avere delle risorse e sicuramente i napoletani non resteranno al buio. Quali tempi possiamo prevedere quindi per l'emanazione del bando? La delibera è pronta in questa settimana, crediamo già tra mercoledì, massimo giovedì, è al vaglio dei nostri settori tecnici e amministrativi. Quindi ne daremo immediatamente pubblicazione e ne daremo massima insomma pubblicità. Per il resto insomma con la società di illuminazione della città già c'è un accordo insomma su una base pre-progettuale di quali sono le installazioni. Quindi non siamo firmi, anzi siamo in un'avanzata fase. Quello che manca come sappiamo tutti sono le risorse però ci stiamo veramente anche attrezzando anche su questo.